Oroscopo del giorno, giovedì 12 dicembre 2019 A rete Amore, oggi sarete portati ad agire impulsivamente e questo causerà dei contrasti con la persona amata. Ponderate le parole per evitare litigi spiacevoli. Anche i single saranno irritabili e il loro atteggiamento non sarà dei più felici. Lavoro, nell'ambiente lavorativo oggi dovrete cercare di essere più socievoli se volete portare a vostro favore diverse situazioni. Toro, amore, oggi sfrutterete ogni momento libero per prendervi cura del partner e fare sentire la vostra presenza in famiglia. I single sentiranno il bisogno di essere coccolati e amati, ma troveranno anche spazio per dedicarsi alle loro passioni. Lavoro, la giornata sarà piena di impegni ma avrete poca voglia di dedicarvi a questioni impegnative e tenderete a sfuggirle. Gemelli, amore, la giornata non è certamente quella migliore per prendere decisioni importanti, ma neanche per affrontare una discussione con il partner. Per i single la serata potrebbe invece riservare delle sorprese e avranno buone occasioni per migliorare la loro vita. Lavoro, un atteggiamento troppo superficiale nel lavoro potrebbe mettere a repentaglio i vostri guadagni. Cercate di non farvi distrarre dalle vostre attività. Cancro, amore, sarà una giornata perfetta da dedicare ai sentimenti. Sarete disponibili nei confronti della persona amata e comincerete a prepararvi per le festività natalizie. I single faranno nuovi incontri e apriranno il loro cuore a nuove sensazioni. Lavoro, avrete nuove occasioni per crescere se svolgete una professione artistica e potrete conoscere persone influenti che vi indicheranno nuove strade. Leone, amore, oggi sarà una giornata piena di imprevisti anche nel settore amoroso. Tuttavia avrete anche voglia di dedicarvi ad attività leggere e rilassanti. Vivrete momenti di gioia con i familiari, sia che siate in coppia o single. Negli affetti troverete il calore che cercate. Lavoro, un lavoro non esitate a chiarire qualche malinteso riguardo un ruolo o una mansione assegnatavi. Non abbiate paura di difendervi. Vergine, amore. In ambito sentimentale, oggi potreste avvertire degli attriti con un partner che richiede molte attenzioni. I cuori solitari vivranno un'ottima giornata e ci saranno buone prospettive per incontrare persone interessanti da conoscere. Lavoro, sul lavoro ci saranno delle avversità da affrontare e anche delle invidie da parte di colleghi che non vedono di buon occhio la vostra scesa. Bilancia Amore, il vostro atteggiamento sospettoso potrebbe irritare il partner. Prima di accusare fareste meglio ad indagare per accertare cosa c'è che non va. Buone notizie in arrivo per chi non ha ancora trovato l'anima gemella. Molti potranno incontrare l'amore. Lavoro, alcuni imprevisti vi porteranno nella direzione sbagliata. Riflettete prima di decidere ed evitate di distrarvi per non perdere le migliori occasioni. Scorpione Amore L'area di festa si fa sentire e anche il vostro atteggiamento nei confronti degli affetti muterà radicalmente. Sarete dolci e teneri con tutti e se avete un partner lo riempirete di attenzioni. I single trascorreranno una giornata serena e tranquilla. Lavoro Sul fronte lavorativo non avrete grossi problemi da affrontare e avrete le soluzioni a portata di mano per qualsiasi cosa. Sagittario Amore Ci saranno miglioramenti nell'intesa di coppia ma dovrete impegnarvi per essere disponibili alle esigenze della persona amata. Per i cuori solitari potranno esserci incontri folgoranti da prendere comunque con le pinze. Lavoro Qualcosa nel lavoro sta cambiando e sarà un bene per chi desidera tentare una nuova via professionale. Capricorno Amore In ambito amoroso ci saranno alti e bassi e sarete anche ossessionati dalla gelosia del partner. In serata riuscirete tuttavia a lasciarvi andare con la vostra dolce metà, mentre i single saranno propensi a frequentare persone nuove e intriganti. Lavoro Avrete molta energia e sarà un bene per la sfera lavorativa. Oggi dovrete trovare la soluzione per alcuni problemi di natura finanziaria. Acquario Amore Giornata senza troppe novità. I nati del segno potranno dedicarsi ad attività rilassanti e se hanno un partner circondarlo di coccole. I single potranno avere qualche buona idea per svagarsi e riunirsi con la famiglia in vista delle feste. Lavoro Qualche piccola discussione con un capo o con qualcuno a cui dovete fare riferimento oggi vi farà andare in tilt. Pesci Amore Oggi il vostro sorriso riuscirà a contagiare le persone che incontrerete. Chi è in coppia potrà vivere momenti speciali con la persona amata. Anche per i single potranno esserci incontri e uscite romantiche con alcune conoscenze. Lavoro Il lavoro oggi sembra passare in secondo piano e dovrete organizzarvi al meglio per non lasciare cose in sospeso. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie